Buongiorno, allora riprendiamo i nostri lavori per la seconda sessione della mattinata e io adesso, dopo questo break, do la parola a Silvio Pons che ci parlerà di, dopo Praga, scenari e fratture dell'ordine europeo. Grazie, grazie Franco. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 il punto fondamentale dell'agenda internazionale. I Cold Warriors sono in ritirata in Occidente, negoziati sugli armamenti, prima ipotesi di negoziato sul Vietnam, il gollismo come segnale di un diverso protagonismo dell'Europa occidentale e così via. La gran parte delle leadership europee accetta implicitamente come inevitabile il mantenimento dei blocchi politico-militari. Cresce semmai una certa sfiducia nella capacità degli Stati Uniti di tenere in considerazione le istanze dei partner occidentali nei rapporti bipolari. Insomma c'è un indebolimento dell'egemonia statunitense che è rapportabile al Vietnam. Cosa cambia in 68? Potremmo dire che l'Europa diventa l'epicentro della contestazione alle fedeltà binarie, al manicheismo e alla guerra fredda. In un certo senso importando una tendenza che era nata nella periferia, nel terzo mondo fondamentalmente, nella decolonizzazione. Nel maggio del 68, la data simbolo, resta a Parigi, l'apice riforma a Praga, la frattura tra comunismo e anticomunismo come asseportante del sistema internazionale, viene messa in discussione anche come marcatore identitario, come divisione strutturale dell'ordine europeo. In questo contesto il dilemma dei contemporanei diventa sempre più se il futuro dell'ordine europeo sia dentro o fuori il paradigma di alto. Però le risposte sono molteplici a questo grande interrogativo. La risposta delle superpotenze è certamente quella di ribadire la divisione ma governarla. Su questo studio ha ragione, contenere o reprimere il cambiamento dal basso. In questo senso l'epicentro europeo è molto più Praga che Parigi, che in realtà, e questa è un po' la prima tesi che vi vorrei sottoporre. Cioè, Praga non rappresenta, secondo me, soltanto l'intralcio transitorio di un rassetto dell'ordine mondiale che era già in atto, ma invece l'evento cruciale che in larga misura lo modella in Europa. Pur senza sostenere precisamente questa tesi, non a caso, uno storico importante come Arnevestad, quando affronta questi anni, nella sua storia della guerra fredda, parla di The Age of Brezhnev, l'età di Brezhnev, la figura simbolo della difesa dell'ordine bipolare contro lo scivolamento in un'età dell'incertezza. Allora, vediamo un momento più da vicino le reazioni a post-agosto 68, naturalmente cerco di andare veloce. Il quadro sintetico lo sanno tutti, è moderazione degli Stati Uniti, ma soprattutto in Europa occidentale, di senso di molti partiti comunisti, defezione della Romania, critiche di Belgrado e Pechino, uno scenario radicalmente diverso da quello del 56. L'approccio di Mosca è l'uso della forza come madre minore per evitare la minaccia percepita di una destabilizzazione e di una contaminazione, soprattutto in Polonia e in Germania orientale. E sappiamo ovviamente quali sono poi le immediate risposte pubbliche, che sono risposte anche di forte preoccupazione, monumenti contro il rischio di una espansione sovietica che dalla cecoslovacchia possa addirittura minacciare la Jugoslavia, un allarme che viene lanciato da Tito in quel momento, è raccolto da Lyndon Johnson e anche dalla posizione ufficiale della Repubblica Federale Tedesca, nell'immediato dopo l'invasione. Oggi sappiamo però che sul piano invece riservato le cose erano un po' diverse. Mi riferisco anche a commenti all'interno dell'amministrazione americana, ma soprattutto fa un documento che oggi conosciamo, è una lettera di Willy Brandt, allora ministro degli esteri, della grande coalizione in Germania occidentale, 10 settembre 68, una lettera di Rask, del consigliere della sicurezza nazionale americano, nella quale Brandt dice che occorre rendere responsabile l'Unione Sovietica per ristabilire le condizioni per portare avanti la politica di distensione. Da questo momento in avanti si apre un'evidente spaccatura all'interno della grande coalizione Germania occidentale, ci sarebbero altre cose da dire, ma su questo magari nella discussione, e si profila l'eventualità che mentre Praga sembra dare un colpo alla distensione bipolare, invece si apre un canale di distensione europea in cui la Germania possa giocare un ruolo, e questo è effettivamente ciò che avverrà. Qual è la posizione sovietica di questo? Non voglio annoiarvi troppo, ma se c'è qualcosa di interessante da dire, su questo oggi sappiamo che Blesnev era un interventista riluttante, non voleva invadere la ciposoracchia, fa resistenza fino all'ultimo, ma i falchi nel Poliburò, che sono poi Gromico e Andropov, e sostenendo una tesi precisa, e cioè l'invasione della ciposoracchia ci renderà più forti sul piano della politica internazionale anche ai fini della distensione. Questa è la posizione di Andropov, ed è la tesi che si avvera nel settembre, ottobre, nei mesi successivi del 68. Non c'è un gran design sovietico, ma nasce pragmaticamente un disegno ambizioso, la tessera essenziale di una nuova strategia che è destinata a rafforzarsi ancora di più con l'avvio dell'amministrazione Nixon e ancora di più a seguito degli scontri militari di confine tra l'Unione Sovietica e la Cina, che portano l'Unione Sovietica a perseguire ancora di più politica di distensione in Europa. In questo contesto nasce la famosa dottrina Brechner, l'articolo di un accademico Kovalev, che era probabilmente uno pseudonimo, monitorato dall'intelligence occidentale, esaminato, eccetera, che contiene varie affermazioni, tra cui la principale era della sovranità di singoli paesi socialisti, non può imporsi contro gli interessi del socialismo mondiale. La teoria della sovranità limitata, ma non è soltanto questo, è l'inizio, è il presupposto di Mosca per la distensione in Europa. In questo senso Praga è una svolta. Ialta va portata a compimento, le sfere di influenza stabilizzate tramite il reciproco riconoscimento della loro esclusività imperiale. Tanta storiografia, cito ancora una volta il povero Suri, perché ormai è sparare sulla croce rossa, ma ci sono anche altri esempi, ha presentato l'invasione della Cecoslovacchia come l'inizio di un piano inclinato, diciamo, verso la crescente insubordinazione dell'impero esterno sovietico, come una operazione fallimentare, perché è basata solo sulla forza, eccetera, eccetera. Questo, a volte ci sono uno sguardo retrospettivo e anche di lungo periodo, è ovviamente vero, ma nell'autunno del 68 le cose non stanno affatto così e nessuno è in grado di esprimere una previsione di questo genere. Perciò, in massima sintesi, Praga non è un incidente di percorso, ripeto, una visione fatta proprio da quasi tutti gli storici che sono occupati della distensione internazionale, ma invece, al contrario, una svolta che rende possibile l'inizio della grande distensione in Europa. Non nasce soltanto la distensione dall'incubo americano in Vietnam o dall'interesse nazionale tedesco reinterpretato dalla socialdemocrazia, ma dalla triangolazione tra questi due elementi e il nuovo disegno sovietico. E' interessante, sono interessanti alcuni giudizi retrospettivi dell'epoca, però. Ne cito due. Primo, quello che Brezhnev dice, riferito a Antony Cerniaev, che era un altro funzionario del Dipartimento Internazionale del Partito Sovietico, aprile 72, senza la cecoslovacchia non ci sarebbe stato Brandt in Germania, Nixon a Mosca e neppure la distensione. Questo è quello che dice Brandt e poi lo ripete anche a Berlinguer un anno dopo. E' interessante molto di più però la consonanza con le memorie di Egon Barr, il grande architetto della Ostpolitik, della vera mente, diciamo, di Willy Brandt, che nelle sue memorie scrive che dopo l'invasione della cecoslovacchia, cito, le potenzialità di una nuova affermazione elettorale della CDU si ridussero fino ad azzerarsi, in quanto la pubblica opinione percepì come fosse nell'interesse nazionale tedesco venire a patti direttamente con Mosca. Allora, a questo punto vi vorrei proporre alcuni scenari un po' reinterpretati nella chiave che vi sto dicendo. Il primo scenario è che all'inizio del 69 si verifica un incontro di fatto tra il paradigma presneviano e quello che si ingeriamo, questo lo sappiamo già naturalmente. Non sono paradigmi equivalenti ma convergenti, mantenere di alta, stabilizzare sfere di influenza fondamentalmente esclusive e mani relativamente libere sui metodi da usare per realizzare questi obiettivi. La vittoria elettorale di Nixon in questo senso è paradossale, perché da una parte conferma la risposta conservatrice degli elettorati contro la protesta dal basso, ma dall'altra proprio Nixon, cioè l'ex Cold Warrior, apre l'era del negoziato. Lui stesso usa questa terminologia. Il ruolo di Kissinger è ovviamente molto studiato, io non mi soffermo se non per ricordare un giudizio importante nel contesto di cui sto parlando, di Mario Del Pero, che fa notare come a cambiare radicalmente nel passaggio del 68-69, politica esteroamericana, non è la pratica della distensione ma la sua concettualizzazione. E questo è un po' quello che succede a parte inversa anche in Unione Sovietica. Cioè una vera e propria trasformazione discorsiva, i cui punti essenziali sono l'equilibrio di potenze dalle legittimità dell'ordine mondiale, la coscienza dei limiti della potenza americana e quindi la visione della distensione bipolare come stabilizzazione, interesse reciproco allo status quo tra le due superpotenze, contenimento delle spinte centrifughe nei rispettivi blocchi europei, priorità, stabilità e sicurezza rispetto a valori universalisti, etici o democratici, abbandono del disegno americano di cambiare i regimi appartenenti alla sfera di influenza sovietica e la ricerca invece di una normalizzazione e subordinazione della della potenza sovietica nel bipolarismo asimmetrico. In questo disegno emerge molto chiaramente sin dall'inizio dell'89 anche nelle relazioni bilaterali con l'Unione Sovietica. Nel marzo del 69 il patto di Varsavia lancia il famoso appello di Budapest che propone la conferenza multilaterale sui problemi della sicurezza europea, questa volta per la prima volta senza escludere gli Stati Uniti. La normalizzazione in Cecoslovacchia, la sua fase ultima e più dura, cioè quella in cui Dubcek viene definitivamente allontanato e sostituito da USA, si svolge adesso e si svolge e viene pienamente accettata sia dagli Stati Uniti che dagli Stati europei. Il secondo scenario, meno scontato perlomeno nel suo intreccio col discorso che sto facendo, è quello della frattura tra Europa e Mediterraneo, che si accentua proprio nel 69. No, in Europa parte la distensione, nel Mediterraneo no. Anzi, il Mediterraneo si estende la guerra fredda. Dopo la guerra dei sei giorni c'è una crescita della militarizzazione, pressione sovietica in Medio Oriente, soprattutto in Egitto e in Siria. e malgrado l'intenzione sovietica di fare questo ai fini della distensione, in realtà questo non succederà. Ora, ecco, come questo scenario impatti sui casi nazionali, non è mio compito dirlo, ci sono due relatori che parleranno dell'Italia, io mi limito semplicemente a far notare come fin dal 69 in Italia si posa un serio problema di disciplinamento all'interno del blocco occidentale, che tra l'altro, nella peculiarità italiana, è che questo disciplinamento è bipolare, perché anche Mosca ha il problema di disciplinare il Partito Comunista Italiano, che è l'unico che ha mantenuto un certo grado di dissenso rispetto all'invasione del Cicco Sovietico. In questo contesto, anche qui mi limito a una segnalazione, perché il tempo vola, il caso della Grecia dei colonnelli è piuttosto interessante, perché l'atteggiamento americano cambia nettamente con l'avvento di Nixon e Kissinger, e Kissinger considera possibile la concessione di aiuti militari alla Grecia dei colonnelli, il National Security Council considera la Grecia importante per la Nato e rispetto al Medio Oriente, proprio in ragione della presenza sovietica nel Mediterraneo, e soprattutto considera la Grecia un paese disciplinato, non indisciplinato, anzi desideroso di avere un ruolo. Ci sono vari segnali di questo, non mi posso soffermare. Il principale è la nomina dell'ambasciatore Henry Tasca, che era praticamente un apologeta del regime dei colonnelli, nel gennaio del 1970. Non c'è soltanto il Mediterraneo, ma non abbiamo tempo di parlare. Il terzo scenario è ovviamente quello dell'Auspolitik. La vittoria elettorale di Willy Brandt nel settembre del 69 liquida la vecchia politica della CDU, cioè il dialogo solo con i paesi dell'Est e non con Mosca, e l'isolamento della Repubblica Democratica tedesca, che peraltro era ben contenta di essere isolata. è una svolta in Europa che non è collimante né con la dottrina Brezhnev né con la dottrina Kissinger. Nasce un'agenda europea-occidentale diversa dal gollismo, perché l'idea, prima di tutto perché è la Germania, naturalmente non devo neanche dirlo perché è importante, ma anche l'idea che si può uscire dagli altri soltanto a partire dal riconoscimento esplicito dei blocchi. La visita di Barr a Washington, il suo incontro con Kissinger dell'ottobre del 69, è un momento di passaggio fondamentale proprio per stabilire un'agenda della distensione europea che gli americani devono digerire, che non hanno la possibilità di cambiare. dialogo diretto con Mosca, svincolare la questione dei confini dal Trattato di Pace della Germania, che era sempre stata una connessione della posta della Sede U, e il maggiore impegno tedesco nella politica mondiale. Tutto questo chi stringerà molte perplessità, se non ostilità, è una cosa che sappiamo. E' interessante anche questa sua visione della Germania, avendo lui una storia, una biografia, che lo rendeva sensibile verso questo, tra i suoi vari argomenti c'è l'idea che la Germania torni ad essere il vaso di coccio nell'Europa centrale come era stata la Repubblica di Weimar negli anni 20. e quindi il rischio di che forse nazionaliste, ancora allo spettro, possano emergere. Perciò, relativa all'opposizione di Kissinger, dura opposizione delle destre nella Repubblica federale tedesca, naturalmente l'Hospolitik viene considerata come un cedimento al totalitarismo, ciò nonostante Brandt vince, e vince con l'aiuto di Bertha. Al dicembre del 69 Mosca ottiene il consenso alla nuova politica di distensione con la Repubblica federale tedesca, con la sola opposizione, tutto questo non era pubblico all'epoca, ma oggi lo sappiamo, con la sola opposizione all'interno del patto di Varsavia della Repubblica democratica tedesca, poi porterà alla sostituzione di Ulbricht con Honecker. Conclusioni. Allora, nella lettura che io vi presento, Praga è un passaggio decisivo di un nuovo ordine europeo, nel quadro del 68 globale, che è culminante nella conferenza di Helsinki del 75, che poi conosce una graduale erosione. Questo ordine esclude il Mediterraneo ed espone come luoghi di confine i paesi d'Europa meridionale. Le reazioni degli attori politici in Europa a questa svolta sono varie, compongono risposte diverse e molteplici, che provo a ricondurre a quattro punti. Il primo è più scontato, naturalmente, cioè l'adesione di parte o buona parte delle classi dirigenti al progetto o ai progetti di stabilizzazione bipolare come risposta conservatrice e difensiva nei singoli contesti nazionali per contenere la protesta dal basso. E questo vale anche per l'est europeo. Secondo punto, i tentativi di massimizzare l'opportunità degli equilibri di potenza e della distensione bipolare in una chiave specificamente europea, aprendo un nuovo ruolo all'Europa e generando un obiettivo indebolimento dell'ordine bipolare. Terzo punto, che forse riguarda di più il nostro dibattito, la percezione invece della distensione come segno di debolezza occidentale e timore che annunci in realtà un disimpegno americano in Europa, creando condizioni ancora più favorevoli per l'Unione Sovietica e per il comunismo quali sembrano emergere simultaneamente anche nel Mediterraneo. Quarto punto, l'idea che la priorità della stabilizzazione e la visione amorale di Henry Kissinger possano delineare una dottrina briennef occidentale, pura e semplice, cioè priva di vincoli, quanto alle istituzioni democratiche nell'Europa meridionale, cioè nel luogo di frattura tra l'Europa e il Mediterraneo. Sono quattro punti di vista in realtà trasversali, talvolta intrecciati con presenti tra loro anche singoli attori, destinati a persistere per tutta la prima metà degli anni 70, l'Italia è uno dei paesi nei quali tutti gli scenari sono presenti e trasversali tra gli attori politici. Io mi fermo qui, grazie.